Il presidente del Prato Stefano Comini è pronto a rilanciare. Ospite alla trasmissione Gioca e Fatto Bianco Azzurro, il massimo dirigente Laniero ha snocciolato tutti i punti programmatici per la prossima stagione. Capitolo ipotetica cessione della società, nessuna opzione in campo. Comini se ne va, se arriva qualcuno che fa una proposta seria e una proposta interessante. Quindi sempre per essere chiari, qua c'è sempre Comini, il prossimo anno i soldi sono di Comini, la squadra è della città, sicuramente Comini sta facendo il massimo e provare a fare il massimo. Anche tante altre squadre ci hanno provato per anni, anche con nomi blasonati, con giocatori blasonati, alla fine poi è arrivato anche il loro turno. Il tema è non mollare e continuare, io non mollo. Capitolo conferma del tecnico Maurizio Ridolfi e del coordinatore tecnico Claudio Sciannamè. In arrivo un nuovo direttore sportivo, allenatore invece in bilico. Il direttore sportivo verrà preso, ma non perché Claudio Sciannamè l'abbia fatto male, ma perché se vogliamo raggiungere dei risultati di un certo tipo, Claudio deve essere comunque affiancato. Io Claudio lo voglio ringraziare come anche al misteri d'olfi per il lavoro che hanno fatto fin qui, perché Claudio è una persona che si è sempre dedicata alla causa, che sta tutti i giorni in ufficio con me a ragionare. Quindi è confermato, ma verrà sempre a casa. Assolutamente, ma lo sa anche lui, ma anche per far crescere lui. Maurizio Ridolfi ha fatto un gran lavoro, per cui secondo me merita rispetto anche da parte della società. Detto questo però sono scelte non facili. Maurizio ha delle chance per poter rimanere, sicuramente queste ultime tre sconfitte non aiutano. Quando darò il nome al direttore sportivo darò immediatamente il nome dell'alternatore e verranno comunicati. Entro la fine della prossima settimana avrete forse prima i nomi. Capitolo obiettivi futuri. Il Prato costruirà una squadra per cercare di vincere il campionato. Il Prato la prossima stagione punterà a vincere il campionato. Ma io assolutamente sì, questo è il mio auspicio, assolutamente. Non rimango qua perché si manda in una categoria, non mi interessa. Insomma il Prato è pronto a tornare protagonista con il presidente Stefano Commini saldamente al timone.